C'è la pausa per le nazionali, oggi ultimo allenamento della settimana, si è a disposizione dei giornalisti che hanno inviato diverse domande, iniziamo dalla prima. Mister hai chiuso la settimana con un allenamento congiunto con la primavera, quali sono le indicazioni che hai avuto dai tuoi ragazzi, anche se tra Importuni, Nazionale e Accercatevari non hai avuto tutti a disposizione in questa settimana? No, è stata una settimana ovviamente dove abbiamo lavorato con chi era in condizione di poterlo fare, con chi c'era, chi stava bene, ovviamente in maniera più lunga, sotto l'aspetto organico e sotto l'aspetto tattico, quindi abbiamo fatto due doppie sedute e abbiamo concluso la settimana con una partita ovviamente dove ho voluto far giocare magari chi aveva giocato poco o niente in questi ultimi periodi, quindi mettere dei minuti che ovviamente hanno fatto comore, quindi non era tanto un test diciamo da un punto di vista tattico, anche se poi una partita rimane tale, però proprio di fargli mettere dentro più minuti rispetto da quello che magari tanti di loro hanno per vari motivi giocato. Appunto la sosta quindi vi ha permesso di approfondire i meccanismi di gioco che vuoi dalla squadra, ma anche di conoscervi meglio, su cosa hai lavorato maggiormente e come stanno gli acceccati? Ma guarda, se io le avessi esclusa la partita con l'Atalanta, dove ovviamente era arrivato 24 ore prima, poi le altre tre partite in realtà la squadra è stata sempre con tutte le, con Torino, Lazio e Bologna, è stata dentro la partita fino all'ultimo, quindi questo sta a significare che comunque la squadra aveva tra virgolette recepito quello che volevo insomma. È normale che poi i risultati hanno influenzato tutto e non devono per quello che mi riguarda influenzare, perché comunque sia una squadra che ha possibilità di migliorare tanto sotto quel punto di vista, è normale che siamo maledettamente negati e legati ai risultati e quindi di conseguenza tutto viene visto sotto quell'aspetto. Vi attendono 10 finali, su quale aspetto farai leva per cercare di far tirare fuori il meglio alla tua squadra? Ma sai, i discorsi da prendere in considerazione sono in taluni casi anche inflazionati, quindi quando si parla di orgoglio, si parla di rabbia, di determinazione, di amor proprio, di attaccamento alla maia, quindi tutta una serie di situazioni che rischiano di diventare parole e quindi niente, ho già parlato con la squadra, adesso parlerò con chi torna lunedì, è chiaro che sono 10 partite che non voglio considerare le finali, voglio considerare 10 partite in cui bisogna prepararle una alla volta in cui tutti devono creare i presupposti per essere presi in considerazione, per essere protagonisti in campo e soprattutto voglio vedere gente che è convinta di quello che io e la società diciamo. Quindi, come si dice, è finito il tempo dell'apprendistato e delle chiacchiere, premesso che era comunque già una situazione dove c'era pochissimo tempo per pensare, adesso basta insomma, adesso ci soffermeremo solo su quelli che sono gli aspetti tecnici, i tattici e su quelle che sono le prestazioni della squadra e dei singoli. A centro campo, vista l'assenza per squalifica di Petricione, in questa settimana di lavoro, chi hai visto meglio tra i possibili sostituti e Cigarini come sta? Allora, è ritornato Cigarini in gruppo ma ovviamente, capite benissimo, non può essere nelle migliori condizioni, poi in quel ruolo possono giocare Vulic, può giocare Edoardo, può giocare lo stesso Benali, quindi sto vedendo alcune cose, chi dimostrerà durante la settimana di essere dentro mentalmente, fisicamente e per caratteristiche, alla partita che dovremmo affrontare andrà in campo. Dopo l'incredibile sconfitta col Bologna, l'umore del gruppo sarà molto basso, eppure bisogna trovare gli stimoli e le motivazioni per rimanere vivi e continuare a crederci. Il gruppo in settimana che segnali ti ha dato e credi di cambiare qualcosa in difesa a Napoli? Ma il gruppo non deve dar segnali, sono io che devo dar segnali al gruppo e quindi con tutto il rispetto per quelli che sono i loro umori, se avessi dovuto fare questo mestiere tenendo in considerazione l'umore o personale o generale di una squadra avrei smesso dopo due mesi. Quindi so che da quando esiste il calcio, quando si vince, sono tutti particolarmente convinti, particolarmente forti. Quando questo succede, purtroppo al Crotone è successo troppe volte, c'è delusione, c'è tutto. Quindi non cambia niente rispetto a quello che è il calcio. È la maniera di affrontare i vari momenti che fa la differenza. Un gruppo che vince e non sa capire le vittorie è un gruppo che inevitabilmente difficilmente otterrà dei risultati. La stessa cosa vale per un gruppo che viene da tante situazioni negative e si rassegna. Quindi ognuno di loro deve trovare la forza, ma chi deve dare i segnali sono io. Non sono loro. Loro i segnali li devono dare solo in campo. Quanto sono importanti due settimane per preparare una sfida difficile come quella che vi attende al Maradona? Ma guarda, se dovessi essere sincero, avrei preferito avere due settimane il giorno che sono arrivato per poter preparare tutto il resto. Invece in 25 giorni abbiamo giocato quattro partite, anzi meno di 20 giorni. Quindi dare delle indicazioni e trarre delle indicazioni dai singoli, dalla squadra. Spesso si fa, non voglio dire a sensazioni, però più o meno le certezze ce ne sono sempre di meno. Adesso è chiaro che comincio a conoscere meglio la squadra, però ripeto, sono tutti questi discorsi che non lasciano il tempo che trovano. Noi non possiamo stare qui oggi io stesso a trovare l'alibi se fossi venuto prima o se fossi venuto tre giorni dopo. Non conta niente. Sono venuto quando sono stato chiamato e per quello sono comunque ancora convinto che questa squadra possa, negli risultati, fare molto di più. Nella mente di tutti gli sportivi è ancora viva l'immagine del Benevento che batte la Juve in casa propria. Speri di trovare un Napoli che, come la Juve, possa approcciare male all'impegno col Crotone? Benevento non è stata l'unica squadra nella storia del calcio di Serie A che va a giocare o con la Juve, con l'Inter, con il Milan o chi per loro a Roma. Da sfavoriti e poi vincono. A me è capitato anche a me di vincere in tutti i campi, tranne Napoli. Lo dico perché almeno voglio essere scaramantico al contrario in questo momento. E quindi gli unici due campi dove non abbiamo mai vinto è Napoli e Verona. Quindi Verona ce l'avremo in casa, suppongo, e quindi rimane Napoli. Però Benevento ha dato il segnale che per vincere contro certe squadre devono mettersi insieme tante più coincidenze. A. Che la squadra che affronti non giochi una grande partita. B. Che tu invece la giochi sotto l'aspetto dell'attenzione, della tattica. E poi che alcuni episodi vengano da tua parte. E quindi allora hai possibilità di fare risultato. Io quindi non mi affido al fatto che il Napoli in questo caso debba giocare male. Oppure che gli episodi devono venire da nostra parte. Mi affido solo a uno. Che bisogna essere convinti e organizzati di andarsi a giocare una partita non essendo così stupidi da non capire il valore del Napoli ma neanche altrettanto stupidi dal non capire che tutto quello che dobbiamo mettere in campo bisogna mettercelo. Il Napoli lotta per entrare in Champions. Un obiettivo minimo visto la rosa o in linea con quelle che possono essere le possibilità di questo gruppo? E senza importunie assenze avrebbe lottato per lo scudetto? Allora io sono stato ospite tante volte a Napoli nelle trasmissioni. E ovviamente nel momento in cui Rino veniva non solo attaccato ma anche aggredito si mettevano in discussione tante cose. Io ho detto che era ingiusto non tanto nei suoi confronti però in questo caso nei suoi confronti essere particolarmente aggressivi nei suoi confronti in negativo per un semplice fatto che il Napoli che voleva Gattuso e molto probabilmente la società e anche i tifosi quelli diciamo così sensati lui non l'ha mai o meglio l'ha utilizzato e quando l'ha utilizzato nella prima parte del campionato mi sembra che era in un'ottima posizione di classifica. Poi era ingiudicabile perché perché prendete l'ultima partita le possibilità di scelta che aveva l'ultima con la Roma e quelle di alcune settimane fa ti fanno capire che per una lettera fondamentale sceglie soprattutto in una rosa come quella del Napoli dove c'è la possibilità di attingere. Quindi se tu devi giocare partite dove gli unici due attaccanti sono Politano e Insignia o Politano e Petagna capisci bene che è una squadra costruita con certi sincronismi e soprattutto con certi giocatori. Quindi non è magia il fatto che Mertens sia tornato che Sui Menzi sia tornato, che Lozano ancora c'è, che Politano c'è, che Insignia c'è che improvvisamente il Napoli ha cambiato volto e risultati. È nell'ordine delle cose quindi non c'è nessuna squadra che può far meno di tanti giocatori. E il Napoli secondo me ha pagato soprattutto quello. Altrettanto sinceramente vi dico che secondo me non poteva lottare per lo Scudetto. Da quando sei in panchina il Corazzo ha segnato tanto, nove gol in tre partite ma ha anche subito molti gol, ben tredici. Il Napoli in salute a livello offensivo segna almeno un gol da sette partite consecutive. Come pensi di migliorare la tua fase difensiva? Sì, ne abbiamo parlato anche qui in sala stampa tante volte perché è normale quando tu pensi che sia una squadra ultima in classifica che fa nove gol inevitabilmente ti aspetti dei risultati, di un punteggio diverso. Però la Serie A è questa. La Serie A devi saper difendere individualmente, di reparto, globalmente. Cioè non è che una esclude l'altra. Quindi evidentemente in queste partite la squadra non è stata abile, chiamiamo così, a saper difendersi nelle varie situazioni. Quindi ritorno indietro, globalmente, di reparto e magari nella lettura individuale. Poi può capitare, come vedo altre squadre, che fanno gli stessi nostri errori, anche peggio, e la palla non va dentro. Noi, il gol di Sanabria, di Ilicic, va all'incrocio dei pali. Quello di Sanabria va all'incrocio dei pali. Quello di Skoten, che era un anno abbondante, che non tirava più in quella maniera al limite dell'area, rivale all'incrocio dei pali. Noi abbiamo fatto un gol del genere, ma il 94esimo sul 3-2 è nostro vantaggio. Quello di una scoltorina. Quindi c'è da dire che, ripeto, la mia non è una giustificazione, però facciamo degli errori, ma mi sembra che paghiamo proprio tutto. Non dazio ad ogni tipo di errori. Magari verrà il momento in cui, io ho visto Napoli-Spezia, Napoli ha tirato 145 volte in porta e ha perso la partita. Noi, non dazio ad ogni tipo di errori.